L'economia delle Marche, questa è una regione che ha fatto un po' di traino al sistema Italia, soprattutto per le piccole e medie imprese. C'è una sofferenza diffusa e tanti citticismi anche sulla possibilità di una piccola e medie imprese di andare a competere sul mercato così compasso. Voi, Dignistà, che fotografia avete fatto? Come sempre, anche a Dignistà, non facciamo foto, facciamo filmati, nel senso di capire la dinamica del tempo. Abbiamo fatto due rapporti sulle Marche e il secondo lo stiamo presentando proprio in questi giorni. Da dove emerge un dato di fondo? Io li ho chiamati due bradisismi paralleli e divergenti. Complessa la cosa. Beh, Aldo Moro parlò di convergenze parallele e queste invece sono parallele e divergenti. Perché? Perché se guardiamo i dati di lungo periodo, dal 2000 e poi, e anche in prospettiva fino a 2018, si vede lentamente che l'Italia si allontana, lentamente, ma si allontana dalla media europea. Le Marche lentamente si allontanano dalla media italiana. Ecco perché parla di due bradisismi. Ok. Non è un terremoto. Due fenomeni distanti. Purtroppo il terremoto le Marche l'ha subito e paradossalmente quando c'è un terremoto si accorgono tutti. Il bradisismo è un fenomeno più subdolo, è un gas soporifero. Perché insomma il terreno scende di due o tre centinaio all'anno. Tu non hai la percezione del fenomeno. Ma se fai la somma di vent'anni, dopo vent'anni sei sceso su un metro e l'acqua arriva magari fino a qua. Quindi è necessario non dare l'allarme ma segnalare il fenomeno e chiedersi quali sono gli interventi strutturali sull'Italia, quali sono gli interventi strutturali sulle Marche che invertono la rotta e quindi quelle parallele divergenti le faccia diventare convergenti. Senza aspettare l'infinito, perché sappiamo che all'infinito le parallele si uniscono. Ecco, nella vita terrena sarebbe meglio che le due curve si accorgentino prima di arrivare all'infinito. Ecco e chiaramente in testa di tutto c'è l'isolamento delle Marche, cioè la parte infrastrutturale, fisica e immateriale. Perché non è possibile, in un ultimo vent'anni è stata realizzata un'opera molto importante che si chiama Quadrilatera Marche Umbria, cioè l'asse est-ovest che da Ancuna va a Peruglia, da Cimitanova va a Foligno e collega Marche Umbria poi verso Lazio e Toscana. Ma non si può fare un'opera ogni venti anni. Nella nostra proposta abbiamo detto cinque mosse per portare le Marche nel ventunesimo secolo. Si tratta di fare una quadrilatera all'anno per i prossimi dieci anni, non una ogni venti anni. Beh, allora lo spingio è che lo facciate anche per altre regioni. Noi parliamo della nostra regione anche se, diciamo, sulla terraferma ragioniamo e stiamo lavorando per allargare all'Hub Abruzzo Marche Umbria, quindi avere le tre regioni limitrofe con una strategia comune. E verso il mare, guardiamo alla sponda est-sud-est dei Balcani, che è però l'Europa che in qualche misura deve gestire. Un'ultima domanda se chiesse, ma esiste ancora un modello Italia? Ma il modello Italia non è mai esistito, perché in Italia, come sappiamo, ha mille differenze. È esistito il modello, la via adriatica allo sviluppo, è esistito il modello Veneto, all'inizio il triangolo industriale, Torino-Migeno-Geno, qui sono modelli un po' diversi. Però il problema è, nella compatibilità col territorio, quale modello costruire di crescita, sviluppo e benessere per tutti i cittadini, questo è il problema, che stiano a nord, che stiano a sud, che stiano a destra, che stiano a dovestre. Grazie a tutti.